Buongiorno a tutti, allora, magliettina del gigione, sì 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 sì, la magliettina del gigione perché oggi non ve l'avevo ancora fatta vedere, con la frase, questa è nuova, come vi dicevo l'ho estrapolata per questa settimana, poi settimana prossima ce ne sarà un'altra nuova, probabilmente a tema, ma vedremo cosa mi capita, perché sono tutte e quattro ancora chiuse, quindi ne prendo una a caso quella che viene, viene, e le utilizzerò per tutto il mese di agosto. Comunque proseguiamo il tour del gigione per quanto riguarda la Conference League con le bollette, le bollette, delle gare appunto di Conference, parte prima, quindi la parte prima, quella tra le 18 e le 19, poi vi farò quelle dell'Europa League dalle 19 in poi, e poi se riesco altre una o due di Conference, spero di farcela, comunque dovrei farcela prima delle sei. Allora, e poi dopo devo andare a trabaccare. Partiamo subito con la bolletta delle fisse, anzi prima vi dico le quattro partite che ho scelto e poi partiamo con la bolletta delle fisse. Ho scelto Naturalmente, se volete mettere una doppietta, una doppia, su una partita che non vi convince, ci può stare. Una, massimo due, non esagerate, sennò la quota scende troppo. Andiamo alla bollettina numero due. Copan Young Boys, multigol ospite, 2-4. Riga Siberian, multigol casa, 1-3. Sparta Tarnava, Rakov, multigol ospite, 1-3. IK, Skendigia, multigol casa, 1-3. Con 5 euro se ne vincono 15,93, siamo proprio al minimo sindacale, però vabbè. Non è che siete obbligati a giocarla, a me piace il multigol, quindi lo utilizzo tutte le volte. Proseguiamo con la bollettina number three. Riga Siberian, 1-X più over. Copan Young Boys, X2 più over. Sparta Tarnava, Rakov, X2 più over. IK, Skendigia, 1-X più over. Con 5 euro se ne vincono 21,45. Naturalmente mi direte, un po' pochini. E allora, due opzioni. Opzione number one. Riga Siberian, 1-X più over. Copan Young Boys, 2 più over. Sparta Tarnava, Rakov, X2 più over. IK, Skendigia, 1-X più over. Con 5 euro se ne vincono 29,77. Per chi non lo sapesse che magari si approccia per la prima volta al mio canale, gli over sono tutti over, 1-1,5. Proseguiamo con l'opzione number two. Copan Young Boys, 2 più over. Riga Siberian, 1-X più over. Sparta Tarnava, Rakov, X2 più over. IK, Skendigia, 1-X più over. Con 5 euro se ne vincono 43,15. Quindi avete opzione base, 4 volte la posta. Opzione coraggiosi, 6 volte la posta. Quasi 6 volte la posta. E poi c'è l'opzione libidine per i Braveheart. 8 volte e mezza, quasi 9. La posta. La quota. La posta, la quota, quello che volete. Avete le tre opzioni, potete scegliere. Gli over, come vi ho già detto, sono over 1,5. Andiamo alla bollettina 4 che mi fa libidine. Riga Siberian, gol ospite. Copan Young Boys, gol casa. Sparta Tarnava, Rakov, gol casa. IK, Skendigia, gol ospite. Con 5 euro se ne vincono 27,69. Se la va, la GAMP, come si dice a Milan. Bollettina number five. Copan Young Boys, gol più over. Riga Siberian, gol più over. Sparta Tarnava, Rakov, gol più over. IK, Skendigia, gol più over. Con 5 euro se ne vincono 116,97. Però attenzione perché Riga Siberian. Il gol più over non è favorito anche se c'è una differenza minima di 0,35. Mentre invece Sparta Tarnava, Rakov, i bookmaker, gli analisti, chiamateli come cavolo vi pare, danno abbastanza per scontato una partita non da gol. 1-0, 2-0, 0-1, 0-2 o cose simili. Ma che non... Diciamo che tendenzialmente puntano al no-goal. Ecco, per intenderci. Perché c'è una differenza di 1 tra il gol più over e il no-goal più under. Quindi tenetene conto, come sempre non vi sto a fare il solito discorso, scegliete una partita, la mettete nella vostra bolletta, vi giocate i canonici 2 euro che ne andaste a vincere 46 circa, abbondanti. O se no, mi dite Gigi, soprassediamo perché è troppo un casino. Andiamo alla bollettina number six, quella che io chiamo sempre folle. Coppon Young Boys, 2 più gol. Riga Sibernias, 1 più gol. Sparta Tarnava, Rakov, 2 più gol. IK, Scandigia, 1 più gol. Con 2 euro se ne vieni con 253,09. Con 5 euro 632,73. Ma siccome che tutti i gol non sono favoriti, bolletta alternativa che teoricamente dovrebbe essere quella vincente, ma il gollettino arriva. Non su tutte, ma magari arriva. O magari arriva su tutte e quattro. O se no, 5-0, 4-0 come ieri, no, che ci sono stati tre risultati, un 4-0 e due 5-0. E qua queste sono partite che potrebbero prestarsi anche punteggi del genere. Coppon Young Boys, 2 più 1 gol. Riga Sibernias, 1 più 1 gol. Sparta Tarnava, Rakov, 2 più 1 gol. IK, Scandigia, 1 più 1 gol. Con 2 euro se ne vincono 94,32. Con 5 euro 235,81. Detto questo, ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio. Vado a fare la Europa League. Vediamo se trovo quattro belle partitucole da farvi giocare. Ciao!